Siamo a Bangkok ragazzi, si capisce niente, questi qua passano la bellezza di quattro treni, Siamo su una piazza sopraelevata, questo è un centro commerciale che è una città, è incredibile, e questo è lui che non si è tagliato di testa, no basta il treno, un treno, sopra, ma qua ne passano, forse se ci proviamo ne passano, ne passano.